Perfetto. Allora, buonasera e benvenuti. Questo è il terzo appuntamento della serie di webinar che sono stati organizzati a partire dallo scorso anno da parte di diversi progetti e iniziative che operano nel campo della gestione della condivisione dei dati. Oggi parleremo del Data Portal italiano. Vi do subito alcune nozioni pratiche che vi serviranno per seguire questo webinar. Intanto per chi ha bisogno del certificato di frequenza c'è un form da riempire con un link dedicato che vi metteremo anche nella chat. Per favore durante il webinar usate la chat solo per problemi tecnici o per informazioni. Non usatela per le domande perché facciamo altrimenti fatica a gestirle. Usate invece durante la presentazione il tasto DR che ci servirà quindi per interagire con voi mentre gli speaker stanno parlando. Sia durante le presentazioni che poi anche alla fine di questa prima parte quando avremo la discussione potete utilizzare questo tasto oppure nel caso in cui insomma proprio alla fine del webinar avremo un codice da gestire attraverso il Mentimeter. Per chi non lo ha mai usato potete collegarvi al, scusate questo deve essere, c'è un link sbagliato, ora poi ve lo ridò, con il Mentimeter potete collegarvi e inserire un codice e interagire con noi. Allora vi do l'agenda di oggi. Io sono Emma Lazzeri e sono ricercatrice presso l'Istituto di Scienze e Tecnologie dell'Informazione del CNR e sono anche formalmente affiliata al GAR. Matteo Chiara, ricercatore dell'Università di Milano e CNR ci farà, insomma introdurrà la situazione del nostro paese per quanto riguarda i dati genomici del SARS-CoV-2. Federico Zambelli, sempre dell'Università di Milano e CNR e coordinatore tecnico di Elixir Italia che si è occupata di creare il portale italiano, il Covid Data Portal italiano connesso a quello europeo. e poi Marco Carraro, scusate, alla fine della giornata di oggi, Università degli Studi di Padova ci farà un po' vedere quali sono le prospettive future, lo stato dell'arte del portale. e poi speriamo di avere un'ampia sessione alla fine di discussione. Perché siamo qui? Il perché, lo conoscete, lo dice anche il titolo della nostra serie, collaborare è la chiave per sicuramente sconfiggere la pandemia. Lo abbiamo visto in questi mesi, condividere il più possibile i dati della ricerca ci permette di velocizzare il processo del progresso scientifico, sicuramente per aiutare tutti a uscire dalla pandemia, ma anche in altri campi. L'importanza comunque di gestire correttamente e condividere i dati la vediamo anche per altri motivi. I dati, se non vengono gestiti correttamente e non vengono correttamente condivisi, possono andare perduti e quindi c'è una perdita dell'impatto non solo del finanziamento che ha portato alla raccolta dei dati, ma proprio una perdita dal punto di vista del progresso scientifico. I dati, se non vengono condivisi nel modo corretto, possono essere manipolati. Lo abbiamo visto nei webinar introduttivi che probabilmente alcuni di voi hanno seguito. La manipolazione dei dati non è una cosa così estranea al mondo della ricerca. I dati possono anche contenere errori. Errori che possono essere di varia natura. Non sempre dietro a questi errori c'è una volontà di manipolare i dati, ma sicuramente condividerli con il resto della comunità scientifica aiuta a eliminare la possibilità di fare errori. E poi sostanzialmente il motivo per cui i dati devono essere non solo gestiti ma anche condivisi è che possono essere riutilizzati anche in altre ricerche, quindi anche da parte di ricercatori di ambiti diversi o che comunque non hanno partecipato alla loro raccolta e poi possono essere riutilizzati nella società e lo vediamo benissimo con l'uso che viene fatto dai policy makers in questo periodo dei dati Covid. Abbiamo quindi preparato per voi una serie di eventi che in parte si sono già svolti e in parte si svolgeranno nel corso di quest'anno. Oggi parliamo del Data Portal italiano, ma abbiamo anche in programma altri webinar, in particolare sul problema dei dati epidemiologici e poi tutorial dove speriamo di aiutarvi a condividere e gestire correttamente sia i dati omici che i software, quindi i protocolli ed altri strumenti per l'analisi dei dati. Il Mentimeter è questo. Se utilizzate il QR code che vedete sulla destra di questa slide attraverso il vostro tablet o il vostro cellulare potete votare la domanda che fra poco vi farò vedere oppure potete collegarvi al sito www.menti.com e inserire il codice che vedete su questa slide, quindi 49 17 63 8 oppure potete cliccare sul link diretto che vi stiamo mettendo adesso nella chat. Detto questo io vi ringrazio, passo la parola al prossimo speaker e vi invito a votare alla domanda del Mentimeter che vedete sullo schermo perché poi ne discuteremo alla fine della prossima presentazione. Smetto di condividere. Ok. Grazie Matteo. Prego. Matteo, non ti sentiamo? Forse hai il microfono? Sì, non ho trovato il bottone. Ok, però ora non vediamo nemmeno più la presentazione. Sì, perché mentre sono in modalità di condivisione non vedo dove sta il bottone. È vero, giusto. Poter parlare, quindi riproviamoci. Ok, ora mi sentite e dovreste poter vedere la presentazione. Grazie mille. Allora, in questa mia presentazione proverò a introdurvi nella prima parte alcuni concetti di base del perché è importante sequenziare i genomi del SARS-CoV-2. Nella seconda parte proverò a mostrarvi cosa si è fatto nel nostro paese da questo punto di vista nel corso dello scorso anno e come la situazione si è evoluta nel corso degli ultimi due o tre mesi. Come ovviamente tutti sapete, non è necessario fare grandi introduzioni. Da circa un anno, ormai più di un anno, l'OMS ha dichiarato una pandemia di Covid-19. Mentre siamo ancora tutti alle prese con la pandemia, il numero di casi purtroppo su base e su scala mondiale continua ad aumentare, benché i primi indizi che qualcosa del genere potesse succedere li abbiamo sin dalla fine del 2019. L'agenza eziologico, cioè il patogeno che causa la malattia del Covid-19 è un coronavirus che si chiama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus numero 2 o SARS-CoV-2 e il genoma di questi coronavirus o questa famiglia di virus che si chiama coronavirus è un genoma a singolo filamento di RNA relativamente compatto in dimensioni se confrontato ai genomi che solitamente sono tipici degli organismi superiori ma relativamente grande per un virus. Una delle peculiarità che sta sempre diventando più nota del coronavirus è la loro capacità in realtà di infettare diversi tipi di organismi. Al momento attuale abbiamo una conoscenza relativamente limitata di tutti i coronavirus che esistono però sono classificati in quattro diversi generi e ognuno di questi generi ha una nicchia ecologica in cui è più o meno infettivo ma sovente e sempre più spesso si verificano dei cosiddetti eventi di spillover in cui un coronavirus è in grado di saltare da un ospite così come lo conoscevamo ad un altro. In questa immagine vedete brevemente la rappresentazione della struttura di una particella virale di un coronavirus il capside che è la cosiddetta struttura proteica che contiene in realtà il materiale genetico che vedete all'interno, questo è l'RNA, è composto da quattro proteine. Di queste quattro una è particolarmente importante, l'agricoproteina spike che è quella che vedete rappresentata nel cerchio e che si protrude dal capside stesso perché è la proteina che il coronavirus usa sia per riconoscere le sequenze target nell'organismo ospite quindi per infettarlo ma è al contempo anche la proteina che il sistema immunitario dell'organismo ospite e riconosce maggiormente per produrre gli anticorpi. Quindi al momento attuale come pensiamo e qual è il nostro modello per capire come succede lo spillover cioè il passaggio di un particolare coronavirus da un organismo all'altro? Dalla nostra comprensione del meccanismo nella proteina spike, questa proteina che media di conoscimento con l'ospite c'è un particolare dominio chiamato recognition binding domain che è il dominio che riconosce esattamente a quale proteina ospite legarsi. È stato dimostrato in varie occasioni già a partire dal 2003 con la prima epidemia di SARS-CoV che pochissime mutazioni in questo dominio della proteina possono causare un adattamento a una proteina target di una specie diversa e quindi un salto di specie o spillover. Ad oggi per quanto la cosa non fosse così nota a livello globale sono già noti oltre a SARS-CoV-2 altri sette coronavirus che possono infettare l'uomo ovviamente questi causano sintomi meno gravi e o sono associati a eventi più ristretti ma il meccanismo con cui i coronavirus saltano da una specie all'altra era già largamente noto. In particolare per l'evoluzione dei coronavirus la proteina dal nostro punto di vista in quanto ospiti dei virus stessi più importante è questa proteina S di cui vi ho parlato largamente che è la proteina che è allo stesso tempo target nel nostro sistema immunitario per la maggior parte ma è anche la proteina che il coronavirus usa per diventare capace di infettare diversi organismi. Non solo, è già noto e si è già visto che vendendo più efficiente questa proteina il coronavirus è anche in grado di diventare più infettivo perché l'infettività dipende dall'efficienza della proteina Spike di riconoscere il suo target quindi mentre l'evoluzione fa il suo corso c'è una battaglia che si combatte a livello della proteina Spike per il coronavirus per modificarla in modo da farla diventare più efficiente quindi diventare più infettivo ma da un certo punto in poi anche per modificarla per fare in modo che la proteina non venga riconosciuta in maniera efficiente dal nostro sistema immunitario. Da un certo punto di vista anche se questo non è completamente vero è una formazione rossolana quindi la proteina Spike è quello che possiamo considerare il maggior braglio per l'evoluzione dei coronavirus. Purtroppo però dal punto di vista nostro dalla nostra prospettiva lo studio di quali sono le caratteristiche o i tratti fenotipici se vogliamo dei virus non è così semplice perché diversamente dagli altri organismi non li possiamo osservare. Quindi al momento attuale per capire come procede l'evoluzione di un virus e che cosa sta succedendo l'unica strategia che abbiamo è qualcosa di più indiretto. Non possiamo effettivamente se non con lunghissimi saggi in laboratorio che non sono compatibili con i tempi di una pandemia capire qual è il fenotipo dei virus ma possiamo, dato lo sviluppo di nuove tecnologie di sequenziamento e in tempi molto più rapidi sequenziare i genomi dei suddetti virus capire quali sono le differenze e predire, dato dove sono le differenze se queste possono avere una qualche conseguenza dal punto di vista evolutivo e dal punto di vista di quello che i virus sanno fare. Questo anche sulla base delle informazioni che già abbiamo. È per questo motivo che non deve sorprendere che nell'ultimo anno a partire dal gennaio 2020 da quando il virus è stato riconosciuto, isolato e sequenziato per la prima volta sono state prodotte e vengono rese disponibili a vario titolo in diverse manche dati più di un milione di sequenze genomiche del patogeno. E il cosiddetto approccio di sorveglianza genomica che è l'approccio che al momento attuale si sta rivelando efficace per capire se e dove emergono nuove varianti le cosiddette varianti di SARS-CoV-2 e si sta dimostrando l'approccio più efficace per capire esattamente come sta procedendo l'evoluzione e quali sono le nuove mutazioni di cui dovremmo occuparci. Il primo esempio di questo approccio di sorveglianza genomica si è avuto nella metà dello scorso anno quando in diversi paesi del mondo si è notato che una particolare mutazione in maniera non così sorprendente nella proteina spike sembrava essere diventata molto più frequente in diversi paesi in maniera indipendente. Lo studio che ha fatto questa osservazione è stato pubblicato su Cell e in questo diagramma non è importante ricordarsi qual è la mutazione e qual è il residuo vedete in arancio la frequenza dell'allele chiamiamolo così che era presente nel genoma del coronavirus prima della mutazione che era quello wild type e ad un certo punto vedete che questa diminuisce perché una nuova mutazione la sostituisce e rende il coronavirus più efficiente nell'infettare le cellule umane. Gli autori dello studio hanno dimostrato che questo non era un effetto casuale dovuto al fatto che un particolare virus era prevalente in un particolare paese e questo era ma prendendo i dati a diversi intervalli di tempo in diversi continenti e sia dove il coronavirus SARS-CoV-2 già era prevalente con la mutazione sia dove lo era senza è stato dimostrato nel tempo e nello spazio che in maniera consistente e costante questa nuova mutazione diventava la più prevalente nella popolazione di coronavirus che circolavano in tutti i paesi o in tutte le regioni o in tutti i luoghi in cui era in corso la pandemia e successivamente ben 5-6 mesi dopo il fatto che questa mutazione fosse stata segnalata da questi cosiddetti processi di sorveglianza genomica vari studi in laboratorio hanno pure dimostrato definitivamente facendo dei saggi di infezione che questa mutazione effettivamente rende il virus più infettivo e quindi più in grado di proliferare più velocemente quindi questo è il principio a cui ci ispiriamo per sequenziare un numero sempre crescente di genomi un secondo esempio è quello della cosiddetta variante inglese alla fine di dicembre o sì alla fine di dicembre anche se in realtà la variante è comparsa prima dal Regno Unito è stato annunciato un allarme generale perché una nuova variante nuovo come viene chiamato in termini tecnico l'ignage del coronavirus era apparso nel Regno Unito e in questo semplice grafico potete vedere per ogni lineage il numero di mutazioni adesso associate che corrispondono a un pallino blu questo nuovo lineage che è l'ultimo che vedete nel grafico aveva un numero non così usuale più grande del solito di mutazioni adesso associate e ancora una volta in maniera non così sorprendente queste nuove mutazioni erano per la maggior parte associate alla glicoproteina spike e si è osservato nel tempo almeno nel Regno Unito cosa che si vede da quest'ultimo grafico in cui vedete la prevalenza delle varie mutazioni che queste mutazioni sono diventate molto frequenti nel tempo se prendiamo ad esempio la situazione nel Regno Unito a novembre qui il rosso vedete la rappresentazione della prevalenza di questa nuova variante era limitata solo al sud-est del paese a dicembre si aveva una circolazione ben molto più estesa a gennaio la variante era altamente prevalente in tutto il paese e a partire da febbraio questa nuova variante con questo set di mutazioni è diventata la variante predominante nel Regno Unito ancora e anche in questo caso il fatto di aver sequenziato le sequenze del patogeno prima di avere ampi e numerosi dati a disposizione ha reso disponibile i dati in maniera preventiva e ha permesso di capire esattamente cosa stava succedendo ci sarebbero altri numerosi esempi da mostrarvi e molti di questi probabilmente li leggete anche sui quotidiani ad un certo intervallo di tempo ma come ci si dovrebbe attendere come atteso anche i virus come tutti gli altri organismi rispondono o si adattano agli stimoli dell'ambiente in cui vivono quindi così come parliamo il processo di evoluzione dei virus continua a rimanere sempre in atto e quindi questo è il motivo per cui è importante sequenziarne le sequenze del genoma e riuscire a capire cosa sta accadendo in tempo reale infatti al momento attuale anche se c'è un minimo di dibattito ci sono tre diversi tipi del virus che vengono considerati particolarmente pericolosi o chiamati variant of concern che circolano con diverse prevalenze in diversi continenti ma che hanno tutti delle peculiari imitazioni nell'agricoproteina spike che non discuteremo che dovrebbero renderli o che li rendono più efficienti nell'infettare l'ospite ma anche marginalmente più efficienti nell'evadere la risposta immunitaria tutto questo era per convincervi dell'importanza di sequenziare i genomi del virus e quanto questo approccio possa essere potente nel riuscire a farci prevedere o almeno capire in tempo reale che cosa sta succedendo dal punto di vista dell'evoluzione del petogeno ovviamente però perché questo possa accadere noi dobbiamo campionare sul territorio e nel tempo un numero costante comparabile e omogeneo di campioni e ottenere da questi un numero adeguato di sequenze genomiche per tutto il 2020 questo non è stato il caso a livello mondiale perché se si andavano a considerare le sequenze disponibili in banca dati per diversi paesi che nel 2020 hanno spiorato dunque il milione quello che si notava è che la maggior parte delle sequenze erano associate a determinati paesi quindi non è stato così sorprendente che una nuova variante del coronavirus sia stata provata nel Regno Unito a fine anno perché nel Regno Unito si sequenziavano un numero molto più grande di genomi rispetto agli altri paesi e questo fatto che non per tutti i paesi abbiamo dati omogenei ci lascia con il dubbio che quello che abbiamo visto succedere nel Regno Unito sarebbe potuto succedere in altri paesi ma ce ne sarebbero probabilmente accorti con un grave ritardo anche quando si parla non solo del numero di sequenze che vengono prodotte ma anche dei tempi che sono necessari per analizzarli si vede una grande differenza quando vengono confrontati i diversi paesi questo ancora è un indice del fatto che la situazione in tempo reale non l'abbiamo esattamente per tutti i paesi che sono colpiti dalla pandemia in questo grafico vengono rappresentati solo i paesi per cui a fine dello scorso anno erano presenti mille genomi in una qualsiasi banca dati e sull'asse delle X vedete i tempi necessari dalla raccolta del campione al processamento e all'analisi dei dati che rendono i dati disponibili in banca dati è possibile notare questi sono dei bots plot dove la linea nel centro indica i tempi mediani che i tempi variano grandemente in diversi paesi ci sono paesi che sono molto più efficienti e impiegano pochissimo tempo a rendere disponibili i propri dati e ci sono paesi che sono ahimè meno efficienti e impiegano una quantità di tempo più dilatata questo ovviamente rende i dati meno comparabili e rende la nostra sorveglianza genomica meno potente nel tempo quindi qual è stata la risposta a tutte queste necessità e a questi problemi ne parleranno in seguito diffusamente i miei colleghi la creazione a livello nazionale ma anche europeo di risorse dedicate per aumentare e facilitare la condivisione dei dati genomici e la loro corretta deposizione nelle banche dati come vi dicevo ci sono stati anche vari interventi articoli su prestigiose riviste internazionali che hanno sottolineato come l'analisi stessa dei dati sia una delle parti più preponderanti dato che viviamo in un'epoca dove noi parliamo di genomi ma i genomi sono rappresentati principalmente in forma digitale cioè non abbiamo delle biobanche in cui abbiamo i genomi ma abbiamo delle banche dati in cui la sequenza del genoma è rappresentata sotto forma di una stringa di caratteri quindi nel tempo di analisi la bioinformatica o l'analisi dei dati è qualcosa che risulta preponderante allora venendo alla situazione in Italia in questi due grafici ho voluto rappresentare una discrasia che abbiamo avuto nel nostro paese rispetto al numero dei casi che abbiamo riscontrato nel grafico di sinistra quello in blu sono rappresentati il numero di casi noti alle autorità sanitarie nel tempo nel grafico di destra quello in grigio sono invece rappresentati il numero di decessi associati alla malattia nello stesso intervallo di tempo dal confronto dei due grafici è possibile vedere come l'Italia che è stato il primo paese europeo colpito dalla pandemia in realtà fosse largamente impreparata a rispondere nella prima fase e probabilmente se confrontiamo il numero dei casi noti con il numero dei decessi dato che la letalità della malattia non è cambiata nel tempo quello che vediamo è che nella prima fase c'è stata una grande parte di mancata diagnosi o mancato riconoscimento da parte dell'autorità sanitaria di tutti i casi se veniamo invece al numero di genomi che sono stati sequenziati rispetto ai casi noti a dicembre nel 2020 questo numero era prossimo a un genoma ogni mille casi di cose 19 un genoma del virus ogni mille casi questo era comune a molti paesi in realtà come dicevo in precedenza pochissimi paesi hanno sequenziato una proporzione rilevante dei casi che hanno avuto inoltre sempre venendo al nostro paese la situazione a dicembre ci diceva che se noi avessimo preso diverse settimane dell'evento pandemico il numero di genomi che venivano sottomessi in banca dati a diversi intervalli di tempo dava una distribuzione fatta a picchi per cui in determinate settimane venivano sottomessi centinaia di genomi in altre settimane non veniva sottomesso praticamente nulla e questo ovviamente rappresenta un problema per la sovveglianza genomica dato che i dati non sono omogenei né dal punto di vista geografico né dal punto di vista temporale e sempre rispetto ai tempi di analisi fino all'anno scorso il nostro paese era uno dei paesi più lenti nell'analisi nel processamento dei dati rispetto a tutti quelli che avevano prodotto un numero relativamente alto di sequenze la situazione è migliorata molto negli ultimi tre mesi il numero di sequenze che vengono prodotte è aumentato di circa cinque volte per l'Italia e quindi siamo passati dal uno per mille al cinque per mille è ancora un numero basso ma è un aumento di cinque volte e invece se ci chiediamo i tempi di deposizione e di analisi questi sono migliorati nettamente e in questo momento i dati che fluiscono nelle banche dati da parte dell'Italia sono molto più omogenei nel tempo e sono molto più costanti e sono aumentati sostanzialmente da poche centinaia sono diventati migliaia anche se si evidenziano ancora alcuni picchi nella sottonissione dei dati ma soprattutto i tempi di processamento sono diventati sempre più rapidi quindi pare che al momento attuale la situazione sia in netto miglioramento comunque c'è ancora qualcosa che al momento attuale non va perché se compariamo i dati di diversi regioni quello che ne esce è che ci sono delle c'è una distribuzione macchia di Leopardo quindi abbiamo una efficienza che mediamente è aumentata di molto ma perché è aumentata di moltissimo a partire dal 2021 l'efficienza di alcune particolari regioni in particolare in questo grafico si vede che ora Campania ed Abruzzo sequenziano rispettivamente qualcosa che è vicino al 2 al 3% di tutti i casi che hanno scusate al 20 al 30% di tutti i casi che hanno in quella regione quindi per concludere quello che volevo illustrare in questa presentazione è il fatto che sequenziare un numero crescente e proporzionale ai casi che si hanno del genoma del coronavirus è uno strumento utilissimo per capire in anticipo quanto i dati dicono che il genoma si sta evolvendo quali mutazioni dobbiamo tracciare di cosa dobbiamo preoccuparci e perché la cosa fondamentale è farlo in tempo reale perché vogliamo avere una fotografia sempre più accurata di quello che succede in un determinato luogo per l'Italia la situazione è migliorata nettamente negli ultimi tre mesi c'è stato un netto cambio di marcia ma rimane il fatto che abbiamo delle informazioni molto precise per alcune regioni meno precise per altre regioni e questo quindi dal punto di vista di quello che possiamo fare per capire cosa sta accadendo in tempo reale è un miglioramento ma ancora non è da considerarsi sufficiente e quindi concludo ringraziando tutte le persone che sono coinvolte nel covid data portal e in particolare i ragazzi del team IT che senza i quali sarebbe particolarmente difficile fare quello che stiamo cercando di fare in questo momento ma poi un ringraziamento particolare anche a Erika Ferrandi che è stata assunta da poco e in questo da ora in poi ci aiuterà a curare i contenuti e al team di comunicazione che ci ha aiutato a organizzare questo evento per far conoscere cosa vogliamo fare e che cosa il data portal può contribuire da questo punto di vista cose che saranno degli argomenti delle prossime presentazioni quindi finisco di condividere lo schermo grazie Matteo direi che posso passare la parola sì grazie senti prima di di lasciarci faccio vedere brevemente i risultati che stanno arrivando sul sul Mentimeter dovreste poter vedere lo schermo adesso e la domanda che avevamo posto era quali tipi di dati gestite potete continuare a votare attraverso il link che è stato è stato condiviso oppure utilizzando il codice collegandovi al sito www.menti.com quindi Matteo ti chiedo di commentare brevemente questi risultati mi sembra che ci sia un'abbondanza di dati di pubblicazioni e dati epidemiologici che io non ho trattato ma sono molto importanti anche anzi ancora di più specialmente è un argomento che non abbiamo trattato ma è l'integrazione di tutti questi tipi di dati perché i dati epidemiologici sono rapposti ai dati genomici specialmente se dobbiamo studiare le proprietà e l'evoluzione del coronavirus ci possono aiutare a capire se le mutazioni che vediamo sono mutazioni che sono casuali e non hanno alcun effetto o se associate alle mutazioni che vediamo nel genoma ci sono effetti anche sulle curve epidemiologiche il numero di malati l'occupazione di post-interapia intensiva eccetera eccetera non c'è stato il tempo di commentarlo ma la variante inglese è stata universalmente riconosciuta come più infettiva e probabilmente più letale proprio sulla base dei dati epidemiologici che sono stati confrontati con i dati genomici vedo che ci sono anche tantissimi che hanno segnato pubblicazioni su questo faccio un breve commento e poi passiamo alla domanda successiva voi sapete che i grandi editori hanno aperto in open access tutte le pubblicazioni relative al covid ma ogni volta spostano diciamo il termine di questa operazione un pochino più avanti sempre un pochino più avanti eravamo arrivati siamo partiti da fine ottobre dell'anno scorso per poi arrivare a gennaio adesso mi sembra siamo a fine fine aprile probabilmente sposteranno ancora in là questa data per la chiusura la nuova chiusura delle pubblicazioni quindi invito tutti a condividere in open access le proprie pubblicazioni perché presto o tardi le richiuderanno io passo posso certo buongiorno a tutti sono Marco Carraro uno dei prossimi speaker del ciclo di oggi questi dati in realtà sono molto interessanti sono in leggera contrattendenza quello che sono invece i dati che noi raccogliamo nel portale tendenzialmente noi nel portale considerando il numero di accessi e il numero di pagini il tipo di pagina a cui si ha accesso ci aspettavamo che i dati di genomic insomma coloro che si occupano di genomic e trascrittomica fosse la stragrande maggioranza cosa che invece da questo da questo mentimeter sembra essere non essere completamente così abbiamo appunto un grande numero di persone che stanno lavorando su dati clinici epidemiologici e serologici che sarà uno dei prossimi focus su cui andremo a lavorare nel portale quindi ottima notizia benissimo io se non ci sono altri commenti vado avanti e quindi lancio la prossima domanda che poi commenteremo alla fine della presentazione di Federico quindi Federico se intanto vuoi prepararvi intanto vi leggo questa domanda che è relativa alla condivisione dei dati voi avete una serie di linee che potete utilizzare per dare un valore alle affermazioni che sono sotto quindi la vostra volontà di condividere i dati se c'è questa volontà di condividere sapete come fare quindi avete tutte le skill le conoscenze per farlo avete a disposizione la tecnologia per la condivisione sapete per esempio quali sono i repository dove depositare i dati oppure i metadati che dovete utilizzare e l'ultima parte è relativa alle regole cioè se i regolamenti istituzionali della vostra istituzione oppure altre normative anche dal punto di vista etico o altro vi permettono di condividere i dati io smetto di condividere lascio quindi la parola a Federico grazie mille Emma vediamo se io sono in grado di condividere il mio schermo ok vedete la mia slide ok grazie mille allora buongiorno a tutti io sono Federico Zambelli ricercatore di Milano e coordinatore tecnico di Enix d'Italia in questa presentazione volevo semplicemente cercare di inquadrare un attimo la nascita del portale covid-19 italiano nel contesto di Enix d'Italia nel contesto europeo prima di tutto introduco brevemente cos'è Enix che magari ci sono ancora tante persone che non lo sanno Enix è l'infrastruttura europea per le scienze della vita per i dati biologici è un'organizzazione intergovernativa che cerca di mettere a fattore comune di omogeneizzare tutto quanto concerne la raccolta del dato biologico la sua gestione quindi interoperabilità gli strumenti di analisi il training importantissimo quindi formare le persone che devono maneggiare devono processare questo tipo di dati quindi generale la sua missione è veramente vasta come potete immaginare qua ho riportato alcuni dei goal di ampio respiro gli obiettivi di ampio respiro ad esempio mettere assieme cercare di capire l'influenza dei genomi sui fenotipi a livello delle popolazioni degli esseri umani naturalmente cercare di capire come conciliare il problema della condivisione dei dati con quello della sicurezza dato biologico sicurezza e dato genomico ad esempio come rendere i dati fair e tutte queste tematiche con cui sicuramente molti di voi sono già anche abbastanza familiari come organizzata Elixir è un consorzio a cui partecipano 22 paesi europei anche non europei ad esempio israele più l'istituto europeo di bioinformatica quindi NBL EPI ovviamente essendo un'infrastruttura compito di un'infrastruttura è quello di fornire servizi quindi molti dei servizi che magari voi utilizzate tutti i giorni anche se magari non lo sapete sono forniti da Elixir o comunque da istituti da entità che fanno parte di questa di questa infrastruttura per quanto riguarda il nodo italiano di Elixir come ho detto Elixir è formato da tanti nodi appartenenti a tanti paesi ogni nodo si organizza ogni nodo di ogni paese si organizza secondo le proprie preferenze le proprie specificità per quanto riguarda quello italiano attualmente composto da 23 tra principali università italiane enti di ricerca enti tecnologici come Gari che ricerca la fisica ovviamente Cineca quindi Supercomputing HPC Enea e tutto questo è coordinato dal CNR che è da Lead Entity o meglio Representative Entity del nodo italiano di Elixir ora io non voglio assolutamente annoiarvi con come funziona come strutturato il nodo italiano ho messo questo slide semplicemente per farvi capire che io sono tecnica coordinata quindi ho un ruolo all'interno del nodo che è quello di coordinare questo gruppo di lavoro che è quello dei local tecnica coordinata e semplicemente volevo sottolinearlo perché poi è da questo gruppo di lavoro che nasce l'idea di proporre il portale italiano di dati Covid quindi ci tenevo a ringraziare fin da subito chi collabora con me in termini di questo gruppo di lavoro e ha messo a disposizione la propria expertise il proprio tempo il proprio lavoro per cercare di fare qualcosa insieme ora volevo un attimino mettere nel contesto come è nata l'idea di generare il portale italiano Covid-19 in cui poi vi parlerà più nello specifico Marco fondamentalmente dopo l'estate dopo l'estate del 2020 Elix Italia aveva sì fatto varie attività componenti vari istituti Elix Italia avevano messo in piedi varie attività fornito strumenti fornito risorse di calcolo per gestire analizzare eccetera i dati Covid però insomma quello che ci sembrava è che mancasse ancora qualcosa di fondamentale come ci ha spiegato prima Matteo fondamentalmente quello che stava succedendo è che in Italia fondamentalmente o dati in particolare dati genomici del virus ma anche altri tipi di dati riguardo al virus o non venivano prodotti o se venivano prodotti chi li produceva non li stava non li stava condividendo in particolare il confronto è abbastanza imbarazzante con altre realtà ad esempio con quello che stava e sta ancora succedendo in realtà il gap non è ancora colmato anche se come ci ha fatto vedere Matteo qualcosa cominci a muoversi con quanto stava succedendo nel Regno Unito e noi pensiamo pensavamo pensiamo siamo convinti che fare la sorveglianza genomica sia un'arma a cui non si possa rinunciare ci dicono sempre quella del covid è una guerra e quando si è in guerra di solito si cerca di utilizzare tutte le armi quella della sorveglianza genomica è un'arma fondamentale per conoscere meglio come si muove il nostro nemico quindi non c'è sempre il caso di rinunciare e il contesto quindi diciamo dopo l'estate nell'autunno questi dati in realtà che salgono poi a gennaio sono gli stessi che ha fatto vedere Matteo genomi in Italia ne venivano fatti pochi e anche quelli che venivano pochi avevano un tempo di processamento un po' troppo lungo perché alla fine anche la tempestività con cui i dati vengono processati è fondamentale perché più è veloce e più ci si rende conto in tempo reale di quello che succede naturalmente noi non è che come l'XR Italia non è che avessimo tante leve su cui poter agire per migliorare questa situazione perché innanzitutto come l'XR Italia non abbiamo il controllo diretto né indiretto della produzione dei dati di SARS-CoV-2 e tantomeno della loro farificazione quindi la loro condivisione perché fondamentalmente queste attività avvengono avvenivano adesso qualcosina sta cambiando però fondamentalmente avvenivano ad esempio gli istituti zoprofilati sono istituti regionali su cui noi non possiamo agire praticamente in nessun modo l'Italia non ha un data hub nazionale per questo tipo di dati in cui sia obbligatorio per chi produce i dati inserirli e condividerli e poi c'è il problema o quantomeno la situazione che come ben sapete in Italia la la sanità è controllata è controllata a livello regionale e quindi fondamentalmente ci sono 20 sistemi diversi che a volte fanno fatica a parlarsi tra di loro a coordinarsi tra di loro addirittura da tante nostre discussioni con esponenti del ministro della salute piuttosto che con esponenti dell'istituto per la sanità si capiva che anche loro fondamentalmente fanno fatica a coordinare quello che succede e quindi fondamentalmente siamo guardati in faccia abbiamo concluso che vista che la situazione è questa quello che noi quanto Elixir Italia ma anche in quanto cittadini esponenti del mondo scientifico quello che volete quello che potevamo fare per cercare di aiutare era provare a mobilizzare i dati che venivano eventualmente prodotti e che in qualche modo rimanevano sotto traccia e di aumentare la consapevolezza di quanto fosse sia importante produrre questi dati curarli e condividere e quindi ovviamente ci siamo imbarcati in una battaglia abbastanza complicata però era anche l'unica che al momento avesse senso fare quindi ci siamo dati degli obiettivi strategici che fossero semplici anche perché fondamentalmente tutti quelli che hanno lavorato stanno lavorando al portale lavorano è volontariato scientifico fondamentalmente a parte Erika che ha citato prima Matteo che è stata da poco presa ma da pochissimo per contribuire al portale tutto quello che è stato fatto praticamente finora è stato fatto fondamentalmente su base volontaria non ci sono dietro fondi particolari progetti particolari quindi quello che potremmo fare gli obiettivi che siamo possi quello che potremmo fare è stato quello di appunto aumentare la consapevolezza dell'importanza della produzione di questi dati della condivisione disseminare quelle che sono le best practice linee guida per la loro condivisione per il loro processamento eccetera supportare per quanto possibile chi magari ha questi dati o li produce ma non sa come condividerli metterli anche un po' in vetrina sia i dati sia i progetti scientifici sia quelli che sono i servizi per il processamento dei dati quindi fornire un po' uno sbocco una vetrina per dare la possibilità a chi lavora queste cose magari anche di incontrarsi costruire un hub di expertise di esperti quindi che possono dialogare tra di loro e il tutto cercando di rimanere all'interno di un contesto europeo senza cercare di reinventarsi la ruota fare sforzi duplicati cose che non c'entrano niente con quello del contesto come si poteva fare tutto questo ma la buona notizia è che comunque c'era già chi si stava muovendo in Europa il consiglio europeo la commissione europea scusate aveva già dato mandato a IPI di costruire quello che è il covid data portal europeo quindi quello generale che trovate a questo indirizzo e quindi già stava accadendo qualcosa si stava formando questa covid data platform che fondamentalmente metteva assieme risorse che già esistono ad esempio le banche dati che già esistevano le mettevano dietro questa questa vetrina questo portale in modo che i dati fossero più facilmente accessibili più facilmente raggiungibili a chi fosse interessato tutto questo era supportato da molte infrastrutture di ricerca tra cui Elixir ma anche tante altre come vedete qua e che il tutto cercava di integrarsi poi con quelle che sono le infrastrutture internazionali i FENI e altre iniziative internazionali quindi fondamentalmente la piattaforma dei dati covid era formata ma lo vedremo anche tra poco da quelli che sono i ripositori i dati che già esistevano quindi le banche dati degli MSDC ad esempio gli ENA l'IGA per depositare i dati genomici degli ospiti con i dati genomici umani e poi del nuovo covid data portal che cercava di integrare e di mettere in un contesto omogeneo tutto questo quindi fondamentalmente il covid data portal se parliamo di quello europeo come vedete scritto qua nel titolo covid data portal è un portale non so se chi di voi c'era già a fine anni 90 inizio anni 2000 quando c'erano in internet scopuravano i portali che erano semplicemente delle vetrine che andavano a organizzare i contenuti che già comunque c'erano ecco perché molti magari quando sento parlare di data portal pensano che sia un repository nuovo repository di dati nuovi no il covid 19 data portal si appoggia su quelli che già esistevano i repository che già esistevano funzionavano bene li abbiamo sempre utilizzati ad esempio per depositare sequenze genomiche sequenze nucleotidiche sequenze proteiche per annotarle eccetera 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 semplicemente mettono tutto questo in un contesto che è omogeneo rendendo faccia la loro ricerca e rendendo appunto più visibili facendo emergere quelli che sono i dati relativi al corpo quindi ad esempio il covid data portal i dati sono organizzati in varie categorie che vedete qua sopra che in esempio sequenze nucleotidiche genomiche del virus piuttosto che dell'ospite eccetera eccetera e quindi ognuna di queste pagine ognuna di queste sezioni alla fine si appoggia come vedete qua su risorse su ripositori che ci sono già quindi genomi virali si appoggiano sugli DNA genomica dell'ospite quindi degli esseri umani si appoggia sui GA la trascrittomica si appoggia sull'expression atlas la protettomica si appoggia quindi fondamentalmente quello che si trattava di fare è quello di fornire un cappello a questo tipo di dati che rendesse il tutto omogeneo e rendesse più facile la vita dei ricercatori di chi è interessato a questo tipo e altro aspetto del covid data portal è che poi ci si è resi conto abbastanza presto che comunque anche loro facevano fatica a raggiungere a far emergere molti dati che venivano prodotti a livello locale nei vari paesi dell'Unione Europea e quindi si sono abbastanza da subito prodigati a cercare di coinvolgere le realtà locali affinché assieme al dataporto principale nascessero i dataporto locali con appunto la funzione di essere più vicini alla produzione di dati locali poter andare incontro a chi produce a chi vuole condividere i dati a livello locale e quindi piano piano sono nati i vari covid dataporto nazionali tra cui il nostro e quindi fondamentalmente fare questo covid-19 dataporto all'italiano alla fine si è rivelato la soluzione migliore per quello che noi ci proponevamo di fare perché è comunque uno strumento che ci consente di aumentare la consapevolezza delle persone dei ricercatori rispetto a queste tematiche ci permette di disseminare di pubblicizzare linee guida best practice eccetera ci permette di fornire un canale per supportare chi ha questi dati e intende condividerli ci permette di offrire una vetrina per chi voglia esporli voglia esporre la propria ricerca dei propri dati per i progetti ma anche i propri servizi perché a volte anche i servizi per la ricerca sono estremamente importanti e a volte si fa fatica a trovarli se si è pratico un centro che metta assieme comunque dell'expertise in cui ci si possa anche incontrare e confrontare il tutto in un contesto europeo che è appunto quello del covid-19 e quindi io fondamentalmente sto concludendo volevo solo segnalarvi a questa pagina che fa parte del covid-19 data a porta all'europea questa open letter in cui potete leggere ancora una volta di più spiegato da eminenti scienziati molto più eminenti di me perché è importante fare questo e quindi se volete naturalmente siete i benvenuti a firmare questa lettera aperta e poi volevo puntare al fatto che questo modello si sta rivelando abbastanza vincente anche come come ci ha fatto vedere Matteo prima la situazione sta migliorando non voglio dire che sia solo merito nostro però un pochino che sia anche merito nostro che in Italia la situazione sta migliorando ci voglio e ci vogliamo credere e quindi anche sentendo i colleghi europei quello che si vuole fare è andare nella direzione che questo tipo di modello adesso va bene per il covid ma possa poi essere esportato anche ad altre patologie ad altri e niente io volevo chiudere ringraziando voi che ci avete ascoltato ringraziando tutte le persone adesso non faccio nomi perché sono troppi poi magari lo fa anche Marco inutile che ringraziamo le stesse persone tutti e tre tutti quelli che hanno collaborato a mettere in piedi a rendere vivo il portale tutti quelli che vorranno contribuire mandandoci i loro dati segnalandoci i loro dati le loro ricerche i loro servizi eccetera eccetera e avrete grazie Federico per questa presentazione io mentre si prepara Marco faccio vedere a tutti intanto il risultato della domanda che abbiamo lanciato all'inizio della tua presentazione se vuoi fare un commento mentre Marco si prepara o anche gli altri allora sì mi fa molto piacere che chi abbia dati abbia un forte desiderio di condividerle ovviamente questa è una cosa molto positiva vedo che molti sanno anche come farlo non tutti e per quelli che non sanno come farlo venite da noi il data portal esiste anche soprattutto forse no però anche per quelli per aiutarli per offrire un servizio per aiutare chi li ha a condividere i dati ho a disposizione tecnologie di condivisione beh qua una domanda un po' generica perché tecnologia di condivisione dipende anche dal tipo di dati da cosa si vuole condividere o no però anche qua invito chi magari abbia dei dubbi a contattarci e le regole mi permettono di condividerle beh qua qua in realtà si apre abbastanza un vaso di Pandora perché ad esempio se sono dati dell'ospite non è detto che le regole ovviamente permettono di condividerlo però anche lì ad esempio l'IJ è fatto apposto per condividere dati umani e quindi ha tutta una serie di protezione per rendere i dati come si usa dire as open as possible but as close as necessary quindi non è detto che rendere condividere i dati sia sinonimo di renderli pubblici condividere non vuol dire assolutamente non è sinonimo di rendere pubblici vuol dire condividerli con altri che possono beneficiare dall'utilizzo di quei dati comunque anche per questo tema invito eventualmente chiunque abbia dubbi a contattarci grazie Federico intanto vedo che Marco è pronto io se nessun altro ha commenti da fare interrompo la condivisione del mio schermo e passo quindi la parola a Marco ok secondo che faccio iniziare la mia condivisione di schermo perfetto adesso è vedere la presentazione perfetto grazie perfetto buon pomeriggio a tutti innanzitutto voglio ringraziare Emma e tutto il CNR per l'invito a questo ciclo di seminari io sono Marco Carraro appunto dell'Università di Studi di Padova e sono il project coordinator per implementazione italiana dell'iniziativa Covid-19 Data Portal il contesto è già stato ampiamente introdotto da Matteo e Federico nel corso della mia presentazione ci focalizzeremo su tre aspetti principali del portale italiano questo è il processo che ha portato alla sua creazione già introdotto in realtà dai precedenti speaker andremo successivamente a mettere le mani su quello che è il stato dell'arte del portale per un breve tour di cosa potete trovare all'interno di questa risorsa e concluderemo con una breve overview su quelle che sono le prospettive future su questa risorsa il contesto nel quale nasce questa esigenza di creare un portale europeo un portale italiano per i dati Covid l'esigenza in discussione inizia all'interno dell'ambito dell'Unione Europea già nel corso della prima della prima ondata scusate e qui abbiamo due abbiamo messo due interviste che rappresentano quello che era la sezione del Parlamento italiano a circa aprile dell'anno scorso quindi di fatto nel corso nel corso del picco della prima ondata abbiamo un'intervista alla professoressa Capua la quale sostiene che nei database mondiali delle sequenze di virus pochissimi a quel tempo erano di campioni italiani probabilmente lei in questo caso si riferiva a GSAID e ad aprile su circa 10.000 campioni solamente 40 erano italiani intervista a Vincenzo Colonna CNR di metà giugno quindi due mesi dopo che è quindi fatta nella coda inizio della coda della prima ondata riferendosi a Jim Bank evidenzia come la situazione non sia affatto cambiata quindi due mesi la situazione risultava essere circa la stessa 24 sequenze depositate e se non sbaglio 69 su GSAID ok nel di fatto successivamente alla la pausa estiva col inizio di quella che era gli albori quella che era la seconda ondata come ha introdotto Federico all'interno di Elixir Italia si comincia a a chiedersi quale fosse quindi verso fine settembre ottobre del 2020 quale fosse la situazione se la situazione fosse di nuovo fosse migliorata drasticamente migliorata se la situazione fosse di nuovo quella della della prima ondata per cercare appunto poi di capire come poter poter agire e eventualmente mitigare questa situazione non fatevi ingannare dalla scala logarittmica come potete vedere a ottobre 2020 dati GSAID abbiamo tre top player mondiali che sono ovviamente di Regno Unito gli Stati Uniti e l'Australia che di fatto la fanno la parte al leone in particolare di di Regno Unito con il loro progetto di sorveglianza genomica iniziato ancora nel corso della prima ondata i quali presentavano all'interno dei database di riferimento l'ordine di decine di migliaia di sequenze in particolare sequenze virali la maggior parte dei paesi europei invece presentavano una situazione relativamente simile a quella italiana chi più chi meno con appunto due ordini di grandezza inferiori di genomi genomi condivisi quindi sull'ordine di qualche centinaia situazione particolarmente aggravata dal fatto che questi dati venissero condivisi con estremo ritardo in media 200 giorni dall'isolamento del campione alla condivisione di dati 200 giorni circa 6 mesi ok di media nel corso della prima ondata fino appunto all'inizio della seconda ondata tra quando i campioni erano isolati e quando venivano condivisi situazione oltre a modo complicata dal fatto che i sequenziamenti non avvenivano in modo uniforme nel tempo e nello spazio siamo particolarmente legati a questo slide che rappresenta un'infografica di un tool che abbiamo realizzato che utilizzavamo utilizziamo tuttora per supportare quella sorveglianza genomica questa infografica rappresenta quella situazione fine dicembre 2020 potete vedere questa situazione nel tempo evidenziava come ci fosse stato effettivamente un inizio di sorveglianza genomica veramente degli albori di sorveglianza genomica nel corso della prima ondata poi di fatto il sequenziamento fosse interrotto nel corso di tutta l'estate e forse poi inizialmente è ripreso nel corso della parte iniziale della seconda ondata essendo però dicembre questo dato dicembre 2020 con così grande gap temporale tra l'identificazione e l'isolamento dei campioni e la condivisione di dati a dicembre era in realtà sostanzialmente impossibile capire che cosa stava succedendo cos'era successo nel corso dell'inizio della seconda ondata in quanto infatti i dati magari prodotti non erano ancora disponibili segnalo ricordiamo quei momenti di dicembre 2020 quando di fatto per la prima volta all'interno del nostro studio di sovianza genomica appare per la prima volta quella che è la variante inglese che è rappresentata in questo grafico e la quale sappiamo caratterizzerà tutta quella che è la storia della seconda della seconda ondata della pandemia questa è una slide che avevamo condiviso all'interno della presentazione tra i coordinatori dei portali europei internazionali ovviamente come sappiamo le cause di queste situazioni sono molteplici per quanto riguarda il sistema paese da una parte abbiamo il fatto che la ricerca in particolare in ambito clinico è coordinata molto spesso all'interno di singole istituzioni singole regioni e questo è particolarmente vero per quanto riguarda i dati genomici su covid su covid-19 in quanto sappiamo che la maggior parte delle sequenze vengono all'interno di studi profilattici di competenza regionale abbiamo una mancanza di facilities di ricerca facilities di sequenziamento che possono agire a livello nazionale inoltre abbiamo come è noto in nostro paese esiste una limitata sensibilità non sempre c'è sensibilità sui temi dell'open science su data management e data stewardship questa situazione porta quindi a un'efficiente duplicazione degli sport in un panorama già caratterizzato come sappiamo da una situazione non superflorida per quanto riguarda la parte di finanziamento all'interno di Elixir Italia quindi fine settembre ottobre 2020 ci si pone la domanda su come poter andare a mitigare questa situazione e si ipotizza che l'istituzione di un'istanza locale quindi nord italiano di un covid data portal potesse essere la via abbiamo iniziato innanzitutto a definire quello che era un project charter quindi il nostro obiettivo principale era quello di aumentare il numero di genomi sequenziati in Italia nei database di riferimento quando a settembre ottobre ragionavamo pensavo di raggiungere un livello paragonabile a quelli dei paesi europei fosse una meta oggi sappiamo che le direttive indicano best practices indicano di sequenziare circa il 5% dei casi positivi se non sbaglio Matteo nella sua presentazione diceva che nonostante la situazione sia drasticamente migliorata per quanto riguarda l'Italia siamo oggi a 5 per 1000 ok magari Matteo potrebbe ripetere questo dato confermarmi questo dato come raggiungere questo obiettivo attraverso due sotto obiettivi quello di aumentare l'utilizzo delle piattaforme pubbliche di high performance computing per esempio citiamo la NIA CAEA piattaforma galaxy elixir italia e attraverso l'istituzione di quello che era la distanza locale del covid data portal l'obiettivo era quello di andare online entro inizio 2021 per affinché questa iniziativa potesse in qualche modo mitigare lo stato che abbiamo visto in precedenza ci siamo immediatamente resi conto che questa iniziativa poteva solamente avere un effetto nel caso in cui i top player nel settore della ricerca nel settore della clinica italiana fossero a bordo di questo progetto abbiamo quindi avuto grazie al ruolo federativo di elixir italia siamo stati in grado di avere a bordo istituto superiore rappresentanti di istituto superiore di sanità del consorzio GAR CNR in particolare qui rappresentato dall'istituto IBI o dall'istituto ITB e per quanto riguarda la componente universitaria in particolare nella fase iniziale abbiamo avuto il risultato di supporto da quella che è una delegazione dell'università di Roma Torvergata Milano Statale dell'università degli studi di Padova dell'università degli studi di Torino e della Tuscia nel quale ripeto quel processo di tipo federativo elixir Italia ha avuto il ruolo centrale timeline che ci siamo dati inizio del progetto era quello di appunto andare online con il portale per gennaio 2021 si è iniziato con l'initiation phase nel caso abbiamo definito appunto lo stato dell'arte con delle slide che abbiamo stato in precedenza hanno confermato appunto l'esigenza di questa iniziativa abbiamo definito quelli che sono i goal e le tempistiche e le modalità con le quali vorremmo realizzarli tra i principali milestone quella che è la realizzazione di una beta del portale la realizzazione di definizione che sono i contenuti del portale a cui richiesto parecchio tempo parecchio lavoro e successivamente la migrazione di questi contenuti all'interno della versione alpha del portale processo che si è concluso in realtà un mese dopo di quello che era le nostre aspettative a fine gennaio 2021 c'è deciso di parte una scelta consapevole di posticipare la pubblicazione del portale assolutamente a gennaio in quanto proprio a fine come ci troviamo fine dicembre 2020 e inizio gennaio 2021 era un periodo di fermento per quanto riguarda il covid con appunto l'arrivo in Italia della variante inglese e quindi tutta una serie di discussioni su come poter far fronte anche dal punto di vista della soviglianza genomica all'arrivo di questa variante e successivi varianti un altro task molto importante è stato quello di cominciare a lavorare su delle su delle pipeline e su delle prove di sottomissione di dati particolari di genomici all'interno di database di riferimento questo ci permette oggi di poter fornire quel servizio di supporto di helpdesk a chiunque abbia dati ma per esigenze per mancanze di tempo per mancanze di capacità non è in grado di procedere alla condivisione di questi dati in questo modo il portale va online il primo febbraio il primo febbraio 2021 andiamo ora a vedere ok a mettere le mani davvero sul portale andiamo a vedere quello che è lo stato dell'arte quello che potete trovare se su google su google è covid covid 19 data portal italy un slide su quella che è l'infrastruttura it dietro questo sito dietro questa piattaforma specialmente i contenuti all'interno del portale sono generati all'interno di google documenti di google drive google doc specialmente convertiti in linguaggio markdown e poi abbiamo tre sezioni sezioni di development una sezione di staging una sezione di produzione il sito è creato sul framework yugo diciamo abbastanza sui tecnicismi il tutto è ospitato le pagine sono generate all'interno di un repository github privato all'interno dei tv vari e successivamente questi vengono successivamente trasferiti all'interno del github sul consorzio un gar in cui si fa un mirroring su tre nodi e i quali ospiti invece il sito di produzione nota importante prima di andare veramente a vedere cosa potete trovare all'interno del portale già Federico aveva introdotto questo questo argomento ma vorrei sottolineare nuovamente capita a volte quando presentiamo cosa è il nostro portale il portale che si va incontro a una una confusione un piccolo cortocircuito ovvero si pensa che il portale sia un database repository ovvero io ho i miei dati vado all'interno di questo sito c'è un bottone scritto upload your data i dati vengono caricati ecco questo questo non è ok il portale se vuoi accedere al portale la prima frase di trovare è definisce che il portale fornisce informazioni linee guida strumenti e servizi per supportare i ricercatori nel processo di creazione e condivisione dei dati questa è esattamente la filosofia con il quale il portale hub il portale europeo e distanze nazionali sono state create a inizio pandemia ok si trovava in una situazione nella quale bisognava in breve tempo fornire delle risorse efficienti erodate per la condivisione dei dati ok queste risorse in realtà c'erano già risorse che da anni ci permettevano di condividere e di accedere i dati della ricerca scientifica come per esempio INA European Genome Archive PDB Europe Uniprot PDB PDB Europe Intact eccetera qui da una parte si è voluto evitare di alimentare la ruota dall'altra parte abbiamo queste risorse che erano già in piedi già perfettamente funzionanti che potevano essere utilizzate il ruolo in particolare dei portali nazionali come diceva Federico è quello di effettuare un servizio di brokering quello di mobilitare i dati in quanto ciascun portale vicino alle esigenze di ciascuna di ciascun paese supportare il processo di mobilitazione dei dati verso queste risorse di riferimento ok inizialmente in realtà fino ad oggi ci siamo concentrati su quattro tipologie principali di dati quelli che noi definiamo data types questo principalmente perché per una somiglianza con gli altri paesi con i dati portali con i dati portali col portale col portale hub e anche perché abbiamo imputato questi potessero essere i dati principali se potessero essere interesse in ambito della ricerca sul covid genomica trascrittomica dati sulle proteine dati di imaging e dati sanitari utilizzerò ora per navigare il portale l'esempio dei dati genomica trascrittomica all'interno del nostro portale se aprite il menu genomica trascrittomica si apre un menu della tendina con tre opzioni disponibili con queste tre opzioni noi cerchiamo di andare a coprire il più possibile quello che è il cosiddetto research data management life cycle ok e abbiamo imputato tre casi d'uso tre casi d'uso differenti il primo caso è quello di un ricercatore che ha un quesito scientifico e vorrebbe sapere se esistono già dati che lui può utilizzare dati già condivisi per poter rispondere a questo quesito scientifico e questo quesito viene targhettato all'interno della pagina che prende nuovi dati disponibili su covid-19 secondo caso è quello di un ricercatore laboratorio che ha prodotto i dati invece vorrebbe condividerli ma per varie ragioni non sa come farlo o vuole vuole sapere appunto quali sono le principali linee guida su come farlo e questa sezione è invece la sezione condivisione dati su covid-19 l'ultimo caso è quello invece di ricercatori quali hanno un quesito scientifico però vorrebbero il supporto per produrre o analizzare nuovi dati di ricerca e questa è affrontata la sezione servizi per la ricerca su covid-19 stessa struttura ovviamente è presente anche per le altre tipologie di data type seguendo questo esempio ora vorrei spostarmi sul portale e farvi vedere quello per il caso genomica trascitomica quello che potete trovare questo è la schermata che vi appare quando accedete al nostro portale in classiche sezioni chi siamo link al portale europeo supporto e feedback per contattarci per queste richieste di supporto i quattro data types una sezione dedicata agli eventi sia di training che eventi divulgativi come ad esempio l'evento di oggi è listato all'interno di questa sezione una sezione dedicata agli highlights nelle quali noi mensilmente e anche con frequenza maggiore mettiamo quelli che sono i rapporti sullo stato della condivisione di dati in Italia e sulla sorveglianza genomica in Italia e poi abbiamo una sezione dedicata alle quattro tipologie di dati con i menu che vi parlavo in precedenza andiamo ora aprire i tre le tre tab cominciamo con i dati disponibili su COVID-19 all'interno di questa sezione possiamo trovare tre sottosezioni tre sottosezioni differenti risorse di riferimento risorse presso l'European COVID-19 data portal e risorse sviluppate in Italia risorse di riferimento sono di fatto tutte le risorse i go to place per da una parte condividere dall'altra parte ritrovare dati condivisi su COVID-19 in particolare avete i grandi classici abbiamo European Nucleotide Archive European Genome Film Archive e altre risorse come per se l'Atlas con la sezione dedicata a COVID-19 abbiamo sicuramente le risorse che che magari non sono listate all'interno di risorse di riferimento all'interno ma sono disponibili all'interno dello European COVID-19 data portal e poi una sezione dedicata a quelle che sono risorse sviluppate in Italia successivamente abbiamo invece una sezione che noi chiamiamo Crowdshirst ok abbiamo quello che è il frutto di un'iniziativa di mappatura del Parlamento di Cerca Italiano su COVID-19 in particolare questa iniziativa è iniziata poco dopo la prima release del portale ma è entrata nel vivo di fatto da questa settimana ok questa parte che non stiamo state visualizzando è una parte nuova del sito online sostanzialmente da inizio settimana nella quale appunto si cerca di mappare quelli che sono i dataset prodotti di ricerca in Italia quelli che sono i progetti di ricerca italiani su COVID-19 quelli che sono pubblicazioni e preprint su COVID-19 e tutti questi dati sono raccolti dalle vostre segnalazioni ok qui attualmente queste sezioni risulta essere ancora relativamente poco popolata nonostante l'iniziativa si è iniziata da poco ma abbiamo bisogno del vostro supporto per segnalare queste tipologie di risorse e l'obiettivo del portale infatti come ce ne ho anche te li dico è quello da una parte di cercare di creare sinergie e aumentare l'impatto della ricerca su COVID-19 in Italia seconda sezione secondo caso diciamo che vi ho preso in precedenza condivisione di dati su COVID-19 questo caso risponde a una situazione in cui appunto un ricercatore un laboratorio ha dei dati e vorrebbe condividerli abbiamo una sezione dedicata ai metadati in particolare per quanto riguarda qui l'area genomica trascrittomica i repository di riferimento e alla fine di nuovo una sezione dedicata al crowdsource sappiamo infatti che per diverse ragioni in alcuni casi non è possibile applaudare i dati di ricerca all'interno dei repository di riferimento e questi dati vengono stoccati all'interno dei repository locali in questo modo stiamo cercando di avviare una campagna di mapping di questi repository locali per far sapere come questi dati esistono che magari possono essere dati chiusi possono essere dati accesso controllato che però magari altri ricercatori anche solo sapendo l'esistenza possono magari contattarvi e magari insieme avviare un progetto di collaborazione ultima sezione servizi per ricerca su covid 19 di nuovo i servizi appunto forniti da elixir elixir italia e poi di nuovo i servizi proposti anche in questo caso raccolti attraverso la sezione di crowdsource questo è per ritornare alla home page e dove appunto abbiamo questa sezione contribuisci nel quale potete segnalarci queste risorse semplicemente cliccando su questi link avete accesso a un form e non in real time ma dopo un previsto processo di approvazione più che altro formale la vostra segnalazione viene caricata all'interno del portale nel caso in cui vogliate accedere a tutte queste i risultati di questa operazione di mapping potete andare all'interno della sezione ricerca qui in alto a destra e qui potete trovare tutte queste risorse facciamo il caso di un ricercatore che voglia per esempio sapere se esistono se esiste altri ricercatori che stanno lavorando sui dati covid-19 su imaging a Brescia per esempio ecco che per esempio potrebbe contattare la professoressa Borroni e eventualmente iniziare una collaborazione torno alla presentazione appunto abbiamo bisogno del vostro supporto per questa operazione di mappatura e vi ringraziamo da ora appunto per tutte le segnalazioni che vorrete inviarci statistiche utilizzo ad oggi abbiamo più di 2500 utenti unici che hanno avuto accesso al sito non è sorpresa che la maggior parte siano appunto italiani dalle principali città nelle quali sono località di istituzione di ricerca quindi Roma Milano Bari Napoli Torino Pado Bologna e quali sono le principali pagine qui a Cilindro gli utenti ovviamente la home page i dati genomica trascrittomica e quanto pare anche la sezione highlights quindi sembra che il portale non abbia solo una funzione di un focus sulla ricerca ma anche un focus tipo divulgativo da quello possiamo ritrovare queste statistiche andiamo ora a parte conclusiva di questa presentazione prospettive future abbiamo delle nuove attività che in realtà non erano ipotizzate al inizio appunto del progetto quella che è appunto la sorveglianza genomica tramite le infografiche che abbiamo fatto vedere precedentemente la partecipazione e il continuo update con gli altri nodi nazionali europei e internazionali dei Covid Data Portal l'operazione di mappatura della comunità di ricerca e da partire di fatto da inizio mese abbiamo aperto anche un servizio di submission helpdesk qui abbiamo già due contatti stiamo già superando due istituzioni che sono Area Science Park e tutta Regina Elena per quanto riguarda questa omissione in questo caso dati genomici virali all'interno delle risorse di riferimento fondi supporto come accennava precedente Federico il portale i progetti questi progetti di spin off sono creati e mantenuti totalmente in kind di fatto ad oggi non abbiamo ricevuto nessun finanziamento per supportare questa iniziativa abbiamo partecipato a due call a partire la call EOS Clive abbiamo superato la selezione a due step abbiamo superato la prima selezione tecnica con farla della bontà del progetto non è andato a buon fine finanziamento per differenti ragioni sicuramente il nostro progetto non era 100% in linea con l'obiettivo di questa call ne va a essere comunque la pena provare e dall'anno scorso siamo in attesa di sapere qual è l'esito del finanziamento invece della call Miur Fisr la call chiamata Covid Fast Track 21 milioni di euro per il supporto a ricerche di impatto con risultati in tempi rapidi su quello che è appunto la pandemia sottomissione invio di progetti fine maggio 2020 attesa di risultati giugno 2020 fra un po' saremo a giugno 2021 siamo ancora in attesa di sapere quali sono i risultati di questa call supporto abbiamo ricevuto molto in realtà dalla comunità internazionale Embole BI quella appunto ha trovato ampi linee di finanziamento per questi progetti Elixir Svezia Elixir Sweden e più di 20 contributori che in vari modi hanno lavorato nel progetto vi invito a visitare la sezione About Us del progetto per dare giusto credito a tutti coloro che in modo volontario stanno dedicando hanno dedicato il loro impegno alla costituzione di questa risorsa con questo un'ultima slide per celebrare quello che è un anno dal nascimento di questo progetto a inizio aprile il compleanno dell'iniziativa Covid-19 Data Platform quindi già un'iniziativa che ha ancora più ampio respiro rispetto ai Data Portal che abbiamo Maria Gabriel il commissario europeo per l'innovazione della ricerca il su tweet a festeggiare i grandi risultati ottenuti dall'iniziativa Covid-19 Data Portal ai quali ha contribuito senz'altro anche il portale italiano con questo concludo la mia presentazione e vi ringrazio grazie Marco io invece vi mostro tra un secondo lo schermo del Mentimeter perché abbiamo già i relatori hanno già risposto alle domande che sono arrivate nella parte domande e risposte di Zoom quindi se avete fatto una domanda potete andare a leggere la risposta e invece qui possiamo raccogliere le domande per questa parte di discussione c'è già una domanda che era stata inviata in fase di registrazione quindi ve la leggo nel frattempo che i partecipanti si preparano a eventualmente inserire altri commenti o altre domande come si prevede che i singoli gruppi contribuenti possano fare data mining sul portale quali regole per l'utilizzo dei dati quindi forse Marco se vuoi iniziare a rispondere poi vediamo se gli altri hanno penso che forse Matteo e Federico possano supportare questa risposta sì rispondo io ma al momento data mining può voler dire tante cose al momento diciamo data mining nel senso se tu cerchi in particolare il dataset quello che conviene fare è cercarli su covid data portal quello europeo ok quello che offre il nostro portale al momento è un aggregatore di quelle che sono le risorse italiane quindi più che cercare dati da noi quello che puoi fare è vedere cosa si sta facendo in Italia per poi magari andare a parlare con le persone che lo stanno facendo a livello locale se invece proprio vuoi fare data mining dei dati cioè vuoi cercare dei dataset che soddisfano determinati criteri eccetera gli strumenti per farlo noi al momento non ce l'abbiamo però gli offre il portale molto bene vado avanti c'è un'altra domanda sempre su diciamo sul portale quindi quali metadati sono mandatari al momento di depositare il dato e quali no suppongo che dipenda anche dalla tipologia di dati dipende dalla tipologia di dati e dal se si è responsabile del trattamento dal motivo o dalla delega che si ha per trattarli ad esempio se si è coloro ai quali è stato firmato direttamente un consenso informato si possono sottomettere tutti i dati per i quali si è ricevuto consenso al trattamento nel caso delle sequenze genomiche che sono esempio che conosco meglio non è così poco frequente che un centro che esegue il tampone riceva il consenso informato per il trattamento dei dati che sono anche dati personali che includono lo sesso stato di salute età luogo e data del tampone e che poi però il tampone per il sequenziamento del genoma del virus venga mandato in un centro di sequenziamento quindi a seconda del fatto che si è il centro di sequenziamento che ha prodotto i dati o l'ente primario che vi ha raccolti il tipo di metadati che è possibile sottomettere sono diversi per quanto riguarda i dati genomici c'è un preciso worksheet del INA che specifica quali sono i metadati minimi per sottomettere una sequenza genomica del virus e in realtà non sono moltissimi proprio per questo motivo perché molte volte chi sottomette le sequenze genomiche è il centro di sequenziamento e non colui che ha raccolto primariamente i dati quindi al di là della posizione geografica in cui i dati sono stati prodotti la tecnologia di sequenziamento e la sequenza stessa e pochissimi dettagli in verità su come è stata prodotta non ci sono altri metadati obbligatori al momento la cosa può cambiare anche a seconda del database che si considera noi suggeriamo sempre per i dati genomici del virus di sottomettere a INA che rende i dati completamente pubblici e disponibili per tutti è anche vero che la risorsa più utilizzata in questo momento per essere trasparenti è il portale GSAID che immagino tutti conosceranno al cui in realtà si accede con la restrizione che si può accedere ai dati si possono sottomettere i dati ma non si possono redistribuire i dati altrui quindi si può accedere per farci ricerca ma non si può redistribuire i dati che ci sono dentro vorrei aggiungere un dettaglio su queste ultime parole di Matteo molto spesso quando parliamo con i nostri colleghi parliamo della condivisione di dati in particolare genomica di covid ci viene detto che sì i dati sono stati condivisi all'interno di GSAID e quindi sono già condivisi questo in realtà è un po' un lavoro a metà perché come potete vedere se avete fatto caso alla slide che abbiamo condiviso con l'infografica sulla sorveglianza genomica in Italia quella slide in teoria non potrebbe i dati non potrebbero essere condivisi perché sono dati ottenuti da GSAID i quali non ci dà il permesso di riutilizzare quei dati quindi di fatto condividendo i dati su GSAID in realtà sì appunto è un po' un lavoro a metà per chi è autorizzato in realtà a gestire in toto quei dati quindi sottolineiamo se avete la possibilità se i vostri le vostre policy vi permettono condivideteli anche all'interno di INA o G-non-fino-marchive molto bene c'è un'altra un'altra domanda sul sui dati aggregati e non quindi c'è la possibilità di avere dati non aggregati a quanto risulta a me dato che sono esperto dei dati genomici parlo dei dati genomici i dati genomici al momento attuale consistono nella sequenza ricostruita di ciascun singolo strain del virus che è stato mai visto e sequenziato quindi a questo solitamente associato un'enorme tabella di diversi formati con tutti i metadati che sono stati depositati da coloro che li hanno depositati e torniamo all'esempio precedente data di esecuzione data di campionamento tipologie di sequenziamento metodi che sono stati utilizzati ma la gran parte dei dati che vengono esposti nel portale almeno da questo punto di vista che poi non sono nel portale ma vengono esposti che sono in un altro database al momento attuale non sono aggregati anzi a me piacerebbe proprio che fossero aggregati perché così non dovevi analizzarne di tutte le volte per vedere cosa è cambiato nell'ultimo mese però al momento attuale questo è lo stato dell'arte per quanto riguarda invece la sezione relativa a health data e relativa a imaging i dataset che sono pochi all'interno del portale che sono in forma non aggregata quindi sì senz'altro molto bene io vado vado avanti c'è un'altra domanda intanto vi ricordo che per inserire altre domande quelle che vedete in parte sono state ricevute in fase di registrazione quindi le abbiamo aggiunte qui per mostrarle a tutti potete andare sul sito www.menti.com e usare il codice che vedete qui in cima a questa slide quindi 98 66 65 35 è lo stesso link a cui che avete utilizzato per rispondere alle domande che invece abbiamo posto noi a voi intanto leggo questa domanda nel portale potranno essere registrati anche studi in ambito veterinario quindi epidemiologia SARS-CoV-2 in gatto di colonia sì allora essendo un noto gattaro rispondo io ovviamente lo studio nel senso il paper la pubblicazione può tranquillamente essere sottomessa al portale in quanto parlo di SARS-CoV-2 se ci sono altri tipi di dato sequenze del virus che è stato dentro il gatto non lo so ci sono cosa si intende anche quelle naturalmente anche quei dati possono essere quelle ci sono in Italia ne abbiamo due o tre esempi di coronavirus che hanno infettato c'è quello più famoso poi che invece era una tigra dello zoo di New York comunque ci sono allora intanto rispondo io invece a questa domanda pratica le slide saranno disponibili dopo questo webinar su Zenodo le linkeremo anche sulla pagina di Open Air che descrive il ciclo di eventi quindi le troverete a breve insomma alla fine di questo webinar probabilmente domani su Zenodo tutte insieme e linkate poi nella pagina di Open Air c'è questa domanda sull'accessibilità del dato da parte dell'industria farmaceutica ad esempio per sviluppare nuovi vaccini resistenti alle varianti e correlazione dato brevetti questo mi sembra anche più un commento cioè se i dati sono accessibili anche da parte dell'industria farmaceutica per quindi motivi scopi commerciali e poi quindi il fatto che questi possano poi essere utilizzati per fare dei brevetti mi dico qualcosa io poi magari non so se vuole dire qualcosa anche qualcun altro per quanto riguarda i dati che vengono depositati in repositori pubblici quindi genomi virali che vengono sottomessi a DNA quelli sono pubblici chiunque può accedere incluse le industrie farmaceutiche altri tipi di dato ad esempio dati umani i dati dell'ospite vengono sottomessi all'IGE ci sono delle regole di accesso e quindi poi ognuno ha i propri dataset mette poi le regole che in base alla policy in base alla legge in base a tutto quello che volete hanno senso come anche qua dipende dal tipo di dati i dati epidemiologici che forniamo sono quelli che fondamentalmente fornisce ISS quindi sono dati pubblici dipende dal tipo di dato in generale non è che c'è una preclusione i farmaceutici che sono cattive oppure non gli diamo perché loro ci guadagnano la cultura del dato aperto e la cultura del dato aperto in generale lascia tutti molto bene dunque io ho visto che le altre domande erano più o meno molto simili quindi anche su quale ontologie quali standard vengono usati nella descrizione domande sulla pravia se le proprietà del dato è difficile credo rispondere non so se volete fare un commento sulla privacy e sulla proprietà dei dati contenuti nel portale stesso discorso di prima in generale poi quando si parli di proprietà del dato secondo me si va sempre in un territorio un po' difficile perché dato è di chi lo produce di chi l'ha pagato di chi è il dato quindi non so dal mio punto di vista che probabilmente è estremamente naif se un dato è stato prodotto con soldi pubblici al netto di quelle che sono le protezioni legali quindi se stiamo parlando di dati genomici umani no ovviamente ci devono essere delle protezioni ci sono dati di pazienti eccetera ma tutto quello che non rientra in questo contesto se sono dati che sono stati prodotti da soldi pubblici devono essere dati pubblici in qualche modo che poi magari in condizioni normali io produco dei dati e poi aspetto di pubblicare il paper prima di rendere pubblici in condizioni normali questo ci può stare e magari anche se non approvare lo posso capire in condizioni di emergenza come quella che viviamo io non approvo chi sequenza 2000 genomi di virus si tiene nel cassetto finché dopo 6 mesi pubblica e petra secondo me è una cosa che non va bene le indicazioni dell'organizzazione mondiale della sanità sono in quel caso di rendere pubblico almeno il preprint e poi per quanto a noi non piaccia in quel caso si potrebbero condividere se proprio non si vuole mettere in E&A i dati in GSAID dove si potrebbero già vedere ma non sarebbero completamente riutilizzabili da tutti un po' lo spirito di quell'altra banca dati è questo ed è nata anche per facilitare le case farmaceutiche che se dovessero produrre dei dati se li vedrebbero protetti e non potrebbero farli portare fuori dal database è un modello diverso però piuttosto di avere zero dati è meglio avere dei dati limitati dunque io direi che abbiamo concluso le domande ce ne è è arrivata una ora e prima di leggerla vi ricordo che questa è una serie di eventi quindi se volete conoscere gli eventi che saranno organizzati da qui alla fine dell'anno in particolare quello sui dati epidemiologici e i due tutorial sui dati omici e sulla condivisione e la gestione del software quindi per anche l'analisi dei dati potete trovare tutte le informazioni sulla pagina dedicata al sito di Open Air i webinar saranno pubblicizzati anche sulla pagina degli eventi del CNR quindi troverete informazione anche lì leggo l'ultima domanda prima di salutarci perché abbiamo leggermente sforato il tempo a nostra disposizione quali sono i contributi principali delle altre infrastrutture che trattano informazioni covid 19 se volete rispondere voi intanto posso dire due parole su Open Air che ha a disposizione un gateway per il covid dove raccoglie le informazioni che sono contenute appunto sulla piattaforma di Open Air rispetto a dati software e anche pubblicazioni relative a covid 19 progetti della commissione europea che sono stati finanziati per su tematiche relative al covid se volete aggiungere qualcosa è una considerazione all'altra voce non mi è chiarissima che cosa si intende in senso lato per infrastrutture credo infrastrutture di ricerca suppongo si riferisca a questo ma in effetti questa è una mia supposizione quindi da quel punto di vista ovviamente non possiamo avere contenza di tutto quello che succede nel paese ma ci sono diverse iniziative ad esempio l'istituto superiore di sanità fa un monitoraggio molto attivo delle sequenze del genoma del virus e aggrega tutti i dati perché non c'è tempo per esplorare la cosa però quella è un'altra delle criticità del nostro paese ogni regione produce i dati i sistemi sanitari sono regionali ma poi qualcuno a livello nazionale deve aggregare tutti i dati regionali e capire cosa sta succedendo nel paese quindi quella è una cosa molto importante che fa l'istituto superiore di sanità e a quello che mi risulta lo fa facendo anche delle survey dei report mensili e lo fa pure quando vengono trovate ad esempio delle varianti che potrebbero avere caratteristiche particolari facendo esperimenti in laboratori specializzati per capire se ci sono evidenze epidemiologiche per dire che determinate varianti del virus potrebbero essere più pericolose dal punto di vista dei progetti invece di ricerca sull'ospite il Ministero della Salute ha comunque attivi i suoi progetti in cui finanzia il sequenziamento di genomi umani anche se non siamo direttamente coinvolti ci sono anche call europee dove si prevede di integrare su più ampia scala questo tipo di dati in realtà a titolo completamente beh diciamo non completamente sì completamente gratuito o meglio non finanziato direttamente da alcun ente di ricerca nazionale europeo c'è anche un grande progetto che si chiama covid human genetic effort dove si cercherà si vuole aggregare i dati genetici umani tra diversi paesi di persone che hanno sintomatologie diverse e capire se c'è una causa genetica ad esempio per questo dal punto di vista dei dati serologici so che ci sono progetti ma non è esattamente il mio ambito ma l'idea a livello europeo rimane quella di sfidarsi all'ecosistema che è stato prodotto da NBL EBI dove in diversi database tutti questi dati se associati allo stesso campione possono essere sottomessi quindi il modello ideale sarebbe quello di depositare nel database più valido per i propri dati i dati che vengono prodotti e cercare di tenere traccia dai vari campioni in quel modo è possibile pensare che in un futuro non troppo lontano per ciascun individuo che ha avuto il covid potremmo avere in maniera completamente protetta anonima e non tracciabile i dati serologici che tengono conto della seroprevalenza nel tempo i dati del genoma virale i dati del genoma dell'individuo se esistono e a quel punto se sono stati anche fatti esperimenti di RNA sequencing per studiare il trascrittoma in determinati momenti o in determinati eventi pure quelli quindi l'idea è di utilizzare tutte le infrastrutture che già esistono a NBL e BI che permettono già di condividere i campioni il fatto è che questo lavoro di fare bene la condivisione e la notazione di tutti i campioni probabilmente deve diventare un lavoro e la data stewardship deve diventare un lavoro nel futuro per fare tutte queste cose c'è spazio ma c'è anche necessità di avere persone formate per fare queste cose grazie Matteo io direi che possiamo lasciare quindi aperto l'ultimo l'ultima cosa che vi chiediamo e che vi lasceremo aperto anche tutta questa sera fino a domani quindi se volete lasciateci tre parole o tre concetti che vi hanno colpito oggi si formerà quindi in automatico un word cloud questo è un esercizio che facciamo alla fine di ogni webinar per capire che cosa vi ha colpito e insomma condividere con voi anche questo questo risultato quindi io ringrazio tutti e possiamo quindi chiudere il webinar e vi aspettiamo per le prossime puntate grazie mille a tutti buona serata grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille